Fasi del grande torneo schermistico annuale Italia-Francia svolto nella sala Vagram a Parigi. La squadra francese e la squadra italiana si sono rispettivamente affrontate in otto combattimenti fra i quali quattro incontri al fioretto e quattro alla spada che si sono conclusi trionfalmente per gli azzurri con cinque vittorie contro tre. La squadra francese e la squadra francese. 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 La squadra francese e la squadra francese.